Buongiorno, buongiorno a tutti quanti Buongiorno De Maria buongiorno Buongiorno Come state? Speriamo tutti bene Sì, speriamo bene Noi siamo in macchina stamattina dalle 9 Giusto Monte Maria? 9-1 quarto Sì, 9-1 quarto Per la precisione Siamo in giro per appunto promozionare questo nuovo brano molto bello Che uscirà prossimamente insieme a Jimmy This is love This is love Intanto volevamo sapere perché avevamo pensato io e Jimmy Dato che Jimmy sapete benissimo che è di Ho proprio la mamma Mamma di Carini La mamma di Carini Di Palermo Ovviamente il progetto di Palermo Avevamo pensato di fare un incontro con le fan Con le fans Con la sessua finale Io parli italiano, capito? Un po' napoletano, un po' italiano L'inglese è tuo Fai questo annuncio, Jimmy Fai questo annuncio Se vogliono che andiamo a Palermo Fa In inglese? Anche in inglese, vai Va bene Ok, lo dico prima in Sicilia Se voi volete Noi veniamo a Sicilia Parlate Scrivete Scrivete Ok? Così noi veniamo Dobbiamo trovare Capito? Dai Vediamo là Ci vediamo a Palermo A Paliamo Oppure in inglese In inglese Se vuoi venire a Palermo Poi lasciatelo Scrivete Scrivete In molti di voi Veniamo Veniamo a Palermo Se volete Se volete Dipende Dobbiamo vedere Almeno 600 mi piace Giusto? 600 Almeno 600 mi piace Almeno E 150 commenti Se lo fate Noi Vediamo O per fine di settembre Fine mese Di questo mese qua O addirittura Prima che andiamo in America Che abbiamo il 3 di ottobre Al Columbus Day Siamo ospiti Per cantare questa bellissima canzone Al derby del cuore Che si farà appunto Ad Atlantic City Grazie ovviamente a De Maria E a Cristoforo La produzione di 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 Fateci sapere Ovviamente Scriveteci Questa è la cosa importante Scrivete Scrivete Ciao